Ciao a tutte! Allora, vi voglio fare la recensione di questo shampoo qui che avevo già presentato, che avevo comprato all'Ocean, dell'Omia Laboratories, Physio Shampoo Eco Bio, capelli luminosi e l'olio di macadamia. Allora, certificato ICA, sono 250 ml, 0% siliconi, parabeni, slesse, peg e sale aggiunto. Allora, come vedete, voi direte, sì ma tu non l'hai utilizzato tutto questo shampoo, invece io con questo shampoo qua ho già fatto 7 applicazioni, perché io lo diluisco tantissimo. Ora vi faccio vedere se riesco, scusate. Ecco qui, questa è una mia boccettina nella quale metto lo shampoo, più o meno un cucchiaio di shampoo, e poi metto fin qua d'acqua, agito, e riesco a fare due risciacqui. Fa tantissima schiuma, ma una schiuma non aggressiva, una schiuma molto morbida, e riesco a lavare benissimo i capelli, così ne consumo meno. Diluito non è, già non è aggressivo di suo, però così diluito è ancora più delicato con la cute. E diciamo che io avendo i capelli grassi, questo shampoo non essendo per capelli grassi, ma fa egregiamente il suo lavoro, e addirittura, quando mi lavo con questo shampoo qua, mi restano puliti i capelli anche 3 giorni, e il profumo persiste, ha un profumo da noccioline, dico io, e sì, le nusoline tostate. Vi faccio vedere l'inci, ve l'avevo già fatto vedere nell'altro video, ma ve lo rifaccio vedere, ha un paio di 12 mesi, ma penso proprio che lo finirò prima. E infatti qua dice, idratante e illuminante per capelli stressati e spenti con il capelluto delicato. Io avendo tutt'altro i capelli, diciamo, il mio tipo di capelli non è proprio questo, però insomma mi trovo molto bene con questo shampoo. E ieri l'ha utilizzato anche il mio ragazzo, eppure lui si è trovato molto bene. Lui non l'ha diluito, però comunque ha fatto abbastanza schiuma, e è riuscito a lavare i capelli molto bene. Per me è promosso questo shampoo, devo ancora provare quello all'aulio, è sempre della stessa linea che avevo comprato, dell'Omia, e quando lo proverò vi saprò dire. Intanto vi volevo dare questa piccola recensione, visto che mi sto trovando molto bene. Lo potete trovare, allora io l'ho preso all'Auchan, ma se non sbaglio c'è anche al Tigotà. Al Tigotà e poi l'ho visto al Beauty Star, la profumeria, e non so se c'è l'acqua e sapone, ma insomma, date un'occhiata. Intanto vi ringrazio, ciao ciao!